Allora, oggi ci siamo svegliati a Manchester, poi abbiamo preso l'aereo, siamo tornati a casa, ognuno ha fatto le sue cose di lavoro, mia moglie ha fatto delle cose fashion, io ho fatto delle cose non fashion, poi abbiamo portato i bambini e tutti i loro amichetti con i genitori al campo delle zucche a dipingere le zucche con paloma. Comunque, emocromo quasi al top. Il famoso cantante italiano Fedez ha condiviso con i suoi fan una notizia incoraggiante, attraverso i suoi canali social, ha annunciato di aver trascorso una giornata piuttosto variegata, culminata con i risultati del suo secondo controllo medico. Buone notizie. L'emoglobina sta lentamente, risalendo, e sembra essere in fase di stabilizzazione. Questa notizia ha sollevato un sospiro di sollievo tra i suoi sostenitori, che si preoccupavano per la sua salute. Fortunatamente, sembra che il cantante abbia superato con successo questa sfida, e la sua famiglia può ora respirare più serenamente. Fedez è noto non solo per la sua musica, ma anche per la sua presenza sulle piattaforme digitali, dove condivide momenti della sua vita e del suo percorso di salute. I fan continueranno a seguirlo con affetto, augurandogli una pronta guarigione completa.